ragazzi e buon natale oggi avrò tutti i regali che mi ha portato babbo natale partiamo dal primo oggetto allora ragazzi questo è il primo oggetto è una lavagna grafica a questi due cavi che praticamente il cavo più piccolo l'attacchi qui e il cavo più grande cioè quello usb lo attacchi al computer e ragazzi se prendi la penna e disegni così si vede cosa disegni nel computer quindi ragazzi una figata poi ragazzi mi hanno regalato un abitatore e oggi lo spacchetteremo sì facciamo così abbiamo questo ragazzi facciamo così la stuzione non ce ne importa ci importa solo vedere il trapano olè ce l'ho fatta ok ragazzi questo il trapano ora la abbiamo ragazzi bello forte basta cliccare e si aumenta la velocità bello raga bello poi ragazzi mi ha regalato questo è un rocket book che ragazzi vedete se scriviamo qualcosa qualcosa raga abbiamo la penna scriviamo ad esempio ciao ragazzi si cancella con l'acqua una pezza bagnata basta che fai così se ne va tutto via regà se ne va tutto via non si bagna il foglio regà non si bagna il foglio quindi se vi cade il caffè non si bagna se state facendo i compiti e vi cade il caffè regà questa è la vostra vita perché ci sono diversi tipi questo è il block notice ma c'è pure il quaderno regà c'è la versione quaderno e non so se ci sono altre versioni ma possiamo al prossimo oggetto ragazzi questo è il prossimo molto molto grande allora ragazzi praticamente è un elicottero penso telecomandato siccome dice che può volare fino al 23 cm quindi ragazzi ci ho disegnato qui e quindi si vede che è telecomandato apriamolo ragazzi apriamolo regà non riesco a ragazzi si vede qui non lo sapevo ragazzi stiamo uccidendo sto pacco regà poverino e questo qui è l'elicottero regà va bene ragazzi questo è il controller penso che se mettiamo le batterie si dovrebbe accedere e ragazzi questo è l'elicottero molto leggero infatti si vede che non c'è niente quasi ragazzi questo è l'elicottero molto bello e ragazzi il mio si era rotto prossimo oggetto ragazzi questo è uno spazzolino elettrico quindi ragazzi l'avevo non gliel'avevo detto ma me l'ha portato perchè mi sentiva sempre parlare di sto coso e ragazzi ora l'avriamo ragazzi mi sembra il poco più pesante di tutti è pesantissimo sto coso regà vabbè comunque questo è lo spazzolino c'è c'è là dove si spazzola regà e anzi è qui quindi ok ecco 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 ecco